vediamo come si è formata la terra dalla sua nascita 4550 milioni anni fa quindi 4 miliardi e mezzo di anni fa ad oggi il pianeta ha subito enormi mutamenti grazie al meccanismo delle placche tettoniche di terremoti e vulcanismo senza considerare l'impatto di asteroidi e l'enorme influenza della luna 2 in particolare sono gli eventi che hanno condizionato il futuro della terra all'inizio della sua storia il primo è il mega impatto che ha dato origine alla luna e ne abbiamo già parlato in qualche slide precedenti e poi come vedremo l'intenso bombardamento tardivo ovvero i pianeti esterni del sistema solare si sono riconfigurati in una nuova posizione in particolare urano e nettuno hanno invertito le loro posizioni e questo ha scombussolato la cintura di cui per che si trova nella zona esterna del sistema solare scagliando verso l'interno del sistema una gran quantità di comete e asteroidi e vediamo le tracce di questo intenso bombardamento tardivo in tutto il sistema sol interno mercurio venere luna marte e anche terra cominciamo come si è formata il sistema solare l'abbiamo già visto tante volte come tutti i sistemi planetari in formazione una nube di gas e polvere è collassata su se stessa per la gravità e la forza centrifuga l'ha modellata a forma di un disco all'interno della nube si è acceso il sole che con la sua radiazione ha spazzato via acqua idrogeno elio e tutte le sostanze chimiche più leggere lasciando vicino ad esso solamente gli elementi più pesanti silicati cioè rocce e metalli infatti i pianeti che si sono formati vicino al sole terra compresa sono pianeti rocciosi principalmente costituiti da roccia e metalli in questa zona del sistema solare abbiamo avuto la formazione di molti oggetti minori e tra loro questi si scontravano alcuni cadevano sul sole altri venivano espulsi dal sistema altri ancora si sono scontrati uno di questi mega impatti con cui la prototerra ha avuto con un oggetto grande quanto marte ha dato origine alla luna infatti questo mega impatto ha scagliato nello spazio una buona parte di crosta e mantello di entrambi i corpi che poi si sono riconfigurati a formare un oggetto unico la nostra luna questo è il primo grande evento che ha condizionato tutta la storia evolutiva futura della terra perché come abbiamo visto la luna ha avuto una grandissima influenza sull'evoluzione biologica astronomica e geologica stessa della terra poi dopo questo evento c'è stato un periodo di relativa calma e il sistema solare interno è stato colpito da l'intenso bombardamento tardivo ovvero una grande quantità di corpi ha impattato il sistema solare interno informazione qui vediamo un grafico che mostra l'intensità degli impatti molto alta all'inizio della formazione pianeti poi c'è stato un momento di calma e poi c'è stato questo nuovo picco dopo i 4 miliardi di anni intorno a 3,8 miliardi di anni fa in cui praticamente tutto il sistema solare interno è stato colpito da questi impatti questo è l'intenso bombardamento tardivo come già spiegato questo evento che è avvenuto tra i 4.100 e 3.800 milioni anni fa è stato causato secondo alcune teorie dall'inversione delle orbite di urano e nettuno che hanno scombussolato tutti i corpi minori della fascia di cui per del sistema solare esterno scagliando questi oggetti verso il sole questo evento è stato molto importante perché ha portato sulla terra tantissima acqua molta dell'acqua che riempiono i nostri ceni e che si trovano anche sugli altri pianeti è arrivata a cavallo di queste comete infatti le comete sono enormi oggetti ghiacciati che provengono dal sistema sol esterno e oggi dobbiamo gran parte dei nostri ceni proprio a questo evento dopo questo evento compare la vita in realtà alcuni scienziati pensano che la vita sia già comparsa prima di questo evento ma che questo evento l'abbia estinta completamente quindi è probabile che la vita sia comparsa più volte sulla terra e che poi abbia avuto il modo di evolversi in quello che conosciamo oggi quando la situazione si è fatta più tranquilla ovviamente non possiamo sapere se c'era vita anche prima questo evento di intenso bombardamento tardivo perché l'evento è stato così catastrofico che ha cancellato qualsiasi prova di forme di vita però secondo alcune ricostruzioni già prima di questo evento dovevano essersi formati degli oceani e quindi ci sarebbe stato il tempo affinché la vita sia già emersa in qualche modo però qualsiasi cosa sia nata è stata sicuramente distrutta da questo evento o semmai si è salvata in qualche piccola e insospettabile nicchia ecologica del pianeta ma le prime prove ufficiali di vita sulla terra quindi proprio delle prove biologiche chimiche sulle rocce la troviamo appena dopo questo evento 3.800 milioni di anni fa e la vita comincia con forme batteriche o alghe per milioni di anni anzi miliardi di anni la vita sulla terra è stata semplicemente sotto forma di batteri e anche poi intorno ai 600 e 550 milioni fa c'è stata la grande esplosione del cambriano in cui la vita multicellulare ha riempito il pianeta e milioni di anni dopo milioni di anni il pianeta si è popolato di un numero sempre maggiore di specie di creature multicellulari e complesse fino ad arrivare a quello che vediamo oggi questa è una mappa del tempo che mostra le varie ere geologiche del pianeta viene definita adeano l'era in cui la terra era ancora fusa con una crosta non ancora formata del tutto poi l'archeano l'era antica in cui si sviluppano le prime forme di vita quelle principalmente prokariote e proterozoico quelle eucariote con la fotosintesi che ha cominciato a riempire il pianeta di ossigeno intorno ai 540 milioni fa comincia il precambriano che è quell'epoca in cui la vita multicellulare e complessa è letteralmente esplosa e ha riempito il pianeta le ultime tre epoche sono paleozoico mesozoico e genozoico sono tutte le epoche in cui la vita multicellulare complessa ha colonizzato il pianeta con creature sempre più evolute in particolare il mesozoico è l'epoca in cui sono vissuti i dinosauri poi c'è stato il famoso meteorite che ha messo fine alla loro epoca e il cenozoico è l'epoca in cui i mammiferi hanno preso il controllo del pianeta alla fine del cenozoico siamo arrivati noi questo è solo un estratto della lezione completa sul pianeta terra nella lezione completa accenerò degli esopianeti scoperti simili al nostro vedremo la sua struttura interna in particolare con la dinamica interna tra la crosta e il mantello e ovviamente anche la sua composizione chimica poi vedremo le diverse tipologie di eruzioni vulcaniche che caratterizzano il nostro pianeta e infine anche gli attuali cambiamenti climatici che l'umanità ha innescato negli ultimi decenni potete trovare questo e tanto altro ancora nella lezione completa sulla terra nel mio corso di astronomia sia questa lezione che tutto il corso di astronomia lo potete trovare nel mio canale youtube e sulle pagine instagram e facebook prof antonio loiacono grazie